Lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato, credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione e la reazione deve essere ferma, decisa, si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità, ovviamente dell'unione, della credibilità delle nostre nazioni e quindi noi faremo e chiederemo, probabilmente se ne parlerà anche oggi, che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo perché davvero i contorni sono abbastanza devastanti.